Quest'anno come argomento gli è stato dato agli allievi il quadro delle nozze di estere a Sfero di Giorgio Vasari. I ragazzi e le ragazze hanno ragionato su quel dipinto e hanno progettato dei gioielli che ora andranno a realizzare. Per realizzare le proprie creazioni quest'anno gli studenti del Master Universitario di Storia e Design del gioiello organizzato dall'Università di Siena si sono ispirati a uno dei capolavori di Giorgio Vasari. Il Master ha avuto una fase di laboratorio di progettazione, i ragazzi hanno finito proprio ieri i moduli didattici, ora andranno in stagio nelle aziende, produrranno i gioielli, lavoreranno nelle aziende. Il Master, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, rappresenta uno dei più significativi esempi del rapporto di collaborazione che si è staurato ormai da anni tra l'Università e il sistema economico aretino. Un rapporto che in questo caso si è anche concretizzato nella messa a disposizione ai partecipanti al Master di 5 borse di studio dal valore di 1.500 euro da parte di Camera di Commercio, Confindustria Toscana Sud e Dipartimento di Scienze Umane della Formazione di Lingue per l'Impresa dell'Università degli Studi di Siena, con sede ad Arezzo. Questa mattina la cerimonia di consegna delle borse di studio. Noi anche quest'anno abbiamo messo a disposizione delle borse di studio forti del fatto che moltissime delle imprese di questo territorio lamentano di non trovare figure professionali adeguate a ciò che cercano. Quindi stiamo cercando e continuando a fare formazione per far sì che si vengano a formare e a costituire delle figure professionali che le nostre aziende stanno richiedendo nel mercato. Una triennale di design e un corso in laboratorio orafo e per completare il percorso questo Master è stato perfetto, è stata un'esperienza molto positiva dal punto di vista di collaborazione con le aziende e davvero mi ha aiutato moltissimo anche a definire il mio percorso.